Ehi, guarda! Un rospo! Un rospo che suona la chitarra! Credo che sarà bello da vedere e da ascoltare! Wow! Attenzione, radiotori enormi! Ci stanno cacciando dalla scacchiera! Ehi, guarda! Un rospo! Un rospo che suona la chitarra! Credo che sarà bello da vedere e da ascoltare! Temo proprio di Sibu! Dobbiamo essere molto, molto silenziosi per arrivare alla nostra porta! In questo modo, così! Ecco come dobbiamo gattonare! Per tenere il ritmo con i piedi, dovrete imitare un animale! Aha! Lo sapevo! È il grillo cigolante! Il grillo cigolante? Sì, il grillo cigolante fa cigolare tutte le cose! Non riesce a smettere di cigolare! Neanche l'olio il suo scricchiolio può eliminare! Quindi ha deciso che se deve per forza cigolare... Ottima scelta! D'accordo, amici miei! Per rimbalzare da un tasto all'altro e superare il concerto d'organo del polpo... Ehi, ma perché oggi tutti parlano in modo così buffo? Guardate! Il polpo piegnucolante! Ehi! Attenzione ai pupazzi di neve! Wow! Come facciamo ad arrivare alla porta con questi pupazzi di neve che ci pattinano contro? Io sento aria di festa in arrivo!